e buongiorno ragazzi come va come sta andando iniziata per voi la fase 2 spero proprio di sì io non so in quale fase sono ma nella fase che il coach oggi ti fa vedere un nuovo esercizio quindi preparati perché l'unica cosa che ti servirà sarà un rialzo io in questo caso utilizzerò il divano quindi occhio perché vediamo addominali e glutei è un esercizio medio quindi lo può svolgere chiunque ma attenzione come sempre guardiamo l'esercizio dopo di che rimani collegato non andare di fretta perché ti spiego cosa devi evitare ok quindi occhio guarda bene quindi ti avvicini al rialzo ti metti in questa posizione trova la lunghezza giusta ok da qui ti prepari 1 molto importante ovviamente in questo esercizio dobbiamo cercare di evitare qualche infortunio o addirittura eseguirlo male quindi togliere l'efficacia attenzione quando ti metti in posizione e fai il salto qui devi contrarre al massimo gli addominali perché sennò succede questo perché tu molli completamente la schiena quindi addome chiuso e anche quando vai giù evita chiudi sempre forte ok 1 bene abbastanza semplice ok prova a fare un 20 barra 25 ripetizioni per 5 giri magari lo inserisci nel tuo circuito o nella tua scheda se hai bisogno di qualche altro consiglio sai dove trovarmi al limite proprio se vuoi esagerare lascia un mi piace o ti iscrivi al canale e noi ci vediamo alla prossima e aggiornati bene ciao ok dai via aiuto aiuto ok piccolo aiuto non oscillare troppo forza chiudi forte l'addome dai vai vai vai